E' il giorno di Valery Boginov al Pescara. Il giocatore è arrivato pochi minuti fa nella sede della società Bianca Azzurra, proprio alle nostre spalle, accompagnato dal direttore sportivo Bocchetti e dal medico sociale della società abruzzese. Con lui anche il procuratore Gerry Palomba. Boginov ha sostenuto questa mattina le visite mediche. Dunque si sta chiudendo il discorso per arrivo dell'ex juventino alla corte del tecnico Le Grottaglie. Nei prossimi minuti dovrebbe arrivare la fumata bianca con la firma del contratto fino al 30 giugno di quest'anno.